Bella a tutti ragazzi, con la vostra amica Yosh Oggi Ho messo un video Non ne ho neanche la forza di parlarne Vabbè Ragazzi, oggi voglio dire una cosa Sapevo che un giorno sarebbe arrivato Sì raga Oggi è arrivato il giorno Chiuderò il canale Però Non abbandonerò YouTube Infatti ho ancora il mio secondo canale Che diventerà il principale e l'unico Se chi vuole vedere là Faccio anche delle live Ragazzi Oggi è arrivato l'ora Oggi Chiuderò questo canale Per sempre Non so se lo cancellerò O Lo chiuderò e basta Ragazzi È stato bello Conoscervi tutti quanti Grazie per esservi iscritti a questo canale Ricorda ancora il primo video che ho fatto Beh, io spero che questo canale vi sia piaciuto Ragazzi, non è che lo voglio chiudere così Perché lo voglio e basta Che io in questo canale ho molti problemi Sia problemi di audio Problemi dei video Dopo i miei video Dura, non so Un minuto e basta Io ho problemi anche con un'app Chiamato Mobizen Che registro là Che il mio cellulare fa scriccare sull'app Che non è neanche Non è che va bene in questo Cellulare Perché Questo cellulare non è che è potente Infatti io sto usando il mio vecchio cellulare Per registrare Perché Praticamente questo canale Ce l'ho in questo cellulare Beh ragazzi Sei tranquilli che Mi potrete ancora vedere Il mio secondo canale La faccio anche delle live Sicuramente porterò tanti videogiochi Sia nuovi Sia gli stessi che ho fatto in questo canale Però Quel canale durerà di più Ve lo prometto Beh raga Io spero che vi sia piaciuto Questo canale Grazie per esservi iscritti Tutti Per me siete gli unici Veramente Grazie tantissimo Non ho parole Perché è partito sta musica di merda Adesso Beh Raga Questa è la fine Io spero che questo canale Vi sia piaciuto Non so per quante volte ho detto Però Faccio ripeterlo Perché mi mancherà molto Questo canale È stato uno dei miei primi canali Aperti in youtube Aperti in youtube italia Beh E lo devo concentrare Anche perché non è che ci riesco tanto Concentrarmi Con tutto sto peso Sopra Ok comunque questo sarà l'ultimo video per sempre ovviamente non sarà il mio ultimo video perchè non è che voglio ovviamente abbandonare youtube ho ancora amiche osho 2.0 che durerà molto di più lo ammetto durerà molto di più beh ragazzi abbiamo finito anche questo l'ultimo gioco che ho giocato nel mio canale un mitiosho beh non so cos'altro dire ormai ci siete gli unici ciao addio buongiorno buongiorno Grazie.